Manca meno di un mese all'inizio della Summer Game Fest, la cerimonia inaugurale ci sarà fra il 7 e l'8 giugno e speriamo che in quell'occasione ci saranno sì tanti annunci ma anche qualche gradito ritorno. Tra questi ne citiamo 5, ovvero titoli annunciati tempo fa che sono un po' scomparsi dai radar. Ma prima di partire con l'elenco vi invitiamo come al solito a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella delle notifiche per non perdervi nessuno dei nostri fantastici contenuti video. Partiamo da Dragon Age Dread Wolf, titolo in gestazione da ormai quasi un decennio che secondo voci autorevoli dovrebbe essere al centro della proposta di Electronic Arts per questa Summer Game Fest. In risposta all'ultimo report di Electronic Arts che voleva due titoli in uscita entro l'anno Jeff Grabb aveva detto che uno di questi sarebbe stato sicuramente appunto Dragon Age Dread Wolf e di recente è tornato a parlarne dicendo che tutti quelli che sono al lavoro sul gioco si dicono soddisfatti dei risultati ottenuti. Speriamo. Quello che sappiamo è che tra ripartenze, licenziamenti e cambi al vertice la storia produttiva del titolo non è stata certo tra le più semplici e quindi speriamo che quest'estate, insomma, Dragon Age Dread Wolf si mostrerà in buona forma. È praticamente certo che si mostrerà quantomeno visto che già alla fine dello scorso anno Electronic Arts ha mostrato un altro teaser parlando di un reveal più completo nel corso dell'estate quindi non dovrebbe mancare tanto. Speriamo. Teniamo le dita incrociate. Un altro papabile ritorno è quello lì di Monster Hunter Wilds il titolo che si era mostrato per la prima volta al pubblico, diciamo mezzo mostrato a sorpresa durante The Game Awards lo scorso anno e che potrebbe riapparire agli occhi del pubblico magari con un video un pochettino più corposo nella cornice della Summer Game Fest. Sì, la Thailand c'è ancora un generico 2025 quindi non è proprio dietro l'angolo e ci stanno altri titoli cui dare la priorità come ad esempio Kunitsugami Path of the Goddess o addirittura Pragmata anche se lì vediamo un po' che succede si parla anche di Resident Evil ma insomma a noi ci va di inserirlo nella lista dei giochi che potrebbero fare una comparsata con tutto che, non escludiamo il fatto che Capcom decida di fare il raddoppio e ripresentarsi al prossimo appuntamento con The Game Awards però, oh, la speranza dell'ultima a morire magari ci dice bene. Un altro ritorno che sarebbe certamente ben accolto da una ricca platea di fan è quello di Kingdom Hearts 4 annunciato ben due anni fa in aprile con un trailer anche abbastanza lungo e poi più nulla non se ne è parlato nessun accenno nessun nuovo contenuto insomma niente di niente. E visto che la Summer Game Fest si apre a circa tre mesi dalla pubblicazione di Final Fantasy VII Rebirth ovvero la colonna portante dell'offerta di Square Enix in questo periodo in questa prima parte del 2024 insomma un nuovo trailer ci sarebbe più che bene. D'altronde proprio di recente è emerso un rumor di Insider Gaming che puntava al 2025 come data di pubblicazione del prodotto quindi insomma una comunicazione estiva ci sarebbe bene. A maggior ragione visto che questo è un momento piuttosto delicato per Square Enix che proprio di recente ha avviato un processo di ristrutturazione con l'obiettivo di puntare su produzioni di alta qualità in multipiattaforma dopo gli esi deludenti dell'ultimo anno fiscale che ha visto perdite piuttosto importanti. Detto questo al momento le formazioni in nostro possesso non sono poi così abbondanti. Sappiamo che tra i mondi esplorabili ci sarà lo scenario realistico di Quadratum sappiamo che Sora sarà il protagonista o uno dei protagonisti e sappiamo che il titolo dà il via alla seconda fase di Kingdom Hearts ovvero il Lost Master Arc. Al di là di questo di recente il portale Insider Gaming ha raccolto informazioni che puntano alla uscita collocata entro il 2025 quindi insomma un'apparizione alla Summer Game Fest ci potrebbe stare. Tra gli appuntamenti della Summer Game Fest ci sarà anche l'Xbox Showcase il 9 giugno cornice nella quale ci piacerebbe non poco tornare a vedere o almeno sentire qualche cosa a proposito di Perfect Dark il titolo che lo ricordiamo è stato presentato nella cornice dei Game Awards 4 anni fa nel 2020. Insomma è passato un sacco di tempo. A tal proposito Jeff Grabb dice no non ve l'aspettate per quest'estate perché i lavori sono ancora in corso e nel calendario di Xbox non è previsto che arrivi così presto. Mentre d'accanto suo il leaker Nate Date dice che invece ci sono buone possibilità di vederlo durante la Summer Game Fest quindi a chi credere non se ne sa. Quello che sappiamo è che nel corso degli anni il team di The Initiative ha visto un sacco di defezioni quindi possiamo pensare che il percorso produttivo del titolo sia stato piuttosto accidentato. Ancora adesso nel team di sviluppo ci sono delle posizioni aperte tant'è vero che di recente si è tornato a parlare del titolo in relazione alla possibilità di vedere due modalità diverse ovvero una performance anzi una qualità proprio in relazione a un annuncio di lavoro. Quindi può succedere di tutto se arriva quest'estate tutto sommato siamo contenti ma non è proprio scontato. Un altro gioco che non solo ci piacerebbe vedere ma che è anche un po' un atto dovuto il fatto di infilarlo nella Summer Game Fest è Hollow Knight Six Song titolo che nel corso dei mesi e negli anni è stato più volte rumoreggiato come tra i sicuri tra le apparizioni certe in questo quell'evento non è mai successo. Ricordiamo che il titolo che ha iniziato il suo percorso di sviluppo come DLC del primo Hollow Knight è stato annunciato nel lontano 2019 ovvero 5 anni fa nel corso del tempo ci hanno stati fatti vedere altri trailer c'era stato anche la possibilità di provarlo però insomma niente ciccio per quello che riguarda la data uscita anche se ad aprile questa era sembrata ormai vicina visto che il gioco era stato classificato sia in Australia che in Corea del Sud che sia questa la volta buona che la benedizione arrivi durante la Summer Game Fest e speriamo si aprono quindi le scommesse su quali di questi 5 titoli saranno effettivamente presenti durante la Kermesse estiva diretta da Jeff Kigli qui sotto nei commenti le puntate già che ci state fateci sapere quali sono i vostri desaparecidos del cuore e in attesa di scoprire chi la spunterà noi ci diamo appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao